Arturo Parisi, il Consiglio Direttivo di oggi di Assotrattenimento ha appena approvato l'unanimità all'istituzione di un albo, diciamo, domestico all'interno dell'associazione. Ecco, perché questa iniziativa e perché è un'iniziativa giusta, visto che è stata scelta dall'intero direttivo? Perché Assotrattenimento è certa che l'istituzione dell'albo rappresenti un'opportunità forte per il gestore e vuole fare in modo che questa però possa non rappresentare invece per le altre parti in causa una possibilità in qualche modo di creare delle difficoltà all'operatività. Pertanto Assotrattenimento ha deciso l'istituzione di un comitato, di un ufficio apposito che assista i gestori nell'espletamento appunto di tutte quelle attività preparatorie all'iscrizione all'albo. Quindi è stata approvata all'unanimità perché riteniamo che l'associazione non possa sottrarsi a questa grande responsabilità a cui in questo momento questo decreto la chiama. Come è stato recepito questo elenco degli operatori New Slot che ha istituito la legge di stabilità? Sicuramente un riconoscimento per la categoria? Assolutamente perché se ne parlava da tantissimi anni io che per fortuna svolgo questa attività da tempo ricordo che questo obiettivo è stato storicamente perseguito dalle associazioni e è stato vissuto sicuramente come una grandissima opportunità anche se una lettura attenta del decreto può destare qualche preoccupazione ed è proprio qui che si richiama il compito dell'associazione perché deve porsi in modo forte per rivendicare la dignità di interlocuzione che finalmente quest'albo riconosce al gestore.